La presenza di zanzare, topi, scarafaggi e formiche è assolutamente sgradita all'interno di ogni ambiente di lavoro. Perciò anche per le attività che non hanno l'obbligo di provvedere alla lotta agli infestanti, agire in maniera preventiva affidandosi a professionisti del settore può risultare un investimento per evitare spese maggiori in futuro. Quando vi è evidenza di una infestazione o un controllo delle autorità, può essere molto molto difficoltoso intervenire e risolvere tutti i problemi. Il consiglio è quello di agire per tempo, non intervenite solo quando ci sono i danni. Sia il vostro business che l'ambiente trarranno grandi benefici nell'intervenire tempestivamente con ditte specializzate. Nel campo della disinfestazione è fondamentale agire in modo approfondito e non limitarsi a tamponare la situazione di emergenza per evitare che il problema si ripresenti. È importantissimo non limitarsi ad eliminare tutti gli animali infestanti, ma capire qual è l'origine del problema. Nel campo della disinfestazione occorre agire in un modo appropriato, seguendo un approccio sistemico e sistematico. Si deve partire innanzitutto dal sopralluogo per catalogare le strutture, le attrezzature, gli accessi e quant'altro, interagendo costantemente sia con i lavoratori che con la committenza. Successivamente si vanno ad individuare le lavorazioni ed i prodotti che possono essere presenti sia nei locali che nelle adiacenze, per poi passare alla predisposizione di un progetto di allocazione del sistema di monitoraggio e degli interventi da effettuare. È fondamentale effettuare con cadenza regolare la raccolta dei dati del sistema, rilevare tutte le criticità della struttura ed i comportamenti di tutte le persone che lavorano o comunque entrano in quegli ambienti. Solo ed esclusivamente dopo aver raccolto tutti questi dati ed averli analizzati, si individuano le criticità e si potranno intraprendere le azioni correttive che comunque dovrebbero già essere codificate in fase di progettazione del sistema. Rivolgersi a un'azienda specializzata è fondamentale, ma come scegliere la più affidabile? La scelta migliore è quella di affidarsi a ditte che hanno al loro interno personale qualificato con titoli accademici, professionali e competenze multidisciplinari. Qualifiche che non devono essere solo a livello dirigenziale, come spesso purtroppo accade, ma anche negli operatori che poi si troveranno a dover affrontare quotidianamente sul campo i problemi e doverli risolvere. Non di rado capita che società del settore che vantano in organico fioro fioro di esperti ma almeno poi sul campo personale con poca esperienza e competenza. Altrettanto importante nella scelta della società di pest control sono le certificazioni di cui dispone. Per fare qualche esempio, le certificazioni UNI-N16636 ed UNI-11381. I vantaggi che si possono ottenere affidandosi a un'azienda specializzata sono molteplici e non si limitano all'eliminazione degli infestanti. Nessuno può garantire di risolvere definitivamente il problema, ma con un approccio come quello di cui stiamo parlando, le probabilità di successo aumentano esponenzialmente e, soprattutto, paradossalmente diminuiscono i costi e si tutela anche l'ambiente. Pensate ad esempio a quanto può costare una contaminazione del prodotto a seguito di un errato intervento di disinfestazione in un'azienda alimentare o farmaceutica. Un professionista poi è in grado di utilizzare i prodotti chimici necessari nel modo corretto, evitando che i trattamenti per la disinfestazione creino problemi ai dipendenti che frequentano il luogo di lavoro e che danneggino i prodotti. L'utilizzo massiccio ed indiscriminato di prodotti chimici ha portato alla situazione ambientale attuale. Oggi, però, esistono prodotti specifici a bassissimo impatto ambientale, che però sono altrettanto efficaci, ma devono essere gestiti in maniera professionale e consapevole. Dobbiamo dire basta alle attività fai da te. Basti pensare a tutta la polverina che abbiamo respirato quando ritenevamo che l'unico modo per eliminare le formiche fosse gettare sui marciapiedi e sui davanzali tonnellate di prodotto volatile che ci siamo respirati tutti. Un intervento di disinfestazione efficace non può limitarsi a trovare una soluzione temporanea, ma deve puntare all'eliminazione definitiva del problema. Un obiettivo che BIOS SRL punta a raggiungere investendo sulla multidisciplinarietà delle proprie competenze.